Si chiama Christopher Gart, a 38 anni di età, e pensate che avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla bella Lauren Hoye, ma la ragazza, la donna di 32 anni di età, non si sarebbe mai immaginata che, mentre l'uomo faceva la proposta di matrimonio, ecco che l'anello matrimoniale sarebbe caduto direttamente all'interno dell'oceano. Stavano cavalcando insieme le onde della nativa Onururu, alia Wei, la signora Hoye non immaginava tutto questo, infatti mentre erano nel punto esatto in cui si sono incontrati per la prima volta da giovani mentre surfano, lui stesso si è inginocchiato sulla tavola da surf, ha tirato fuori l'anello, che teneva in tasca dal costume da bagno, ma ecco che quell'anello stesso è caduto nel mare aperto e ovviamente non ci è traccia, perché il mare ovviamente è uno spazio immenso e un anello così piccolo non si può trovare. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, sono cose che capitano, ma io se fossi stato nel signor Gart, Christopher Gart, non avrei mai fatto una cosa del genere, vi l'avrei dato un anello di fidanzamento o meglio di matrimonio sulla terra firma. Grazie, un saluto caro da Leandro, un narrato italiano.